La Giunta Maroni ha presentato un progetto di legge per la riforma del sistema sociosanitario in Lombardia. Le altre forze politiche hanno presentato anche loro dei progetti alternativi. Come Movimento 5 Stelle abbiamo cercato di mettere in questo progetto di legge che trovate pubblicato sull'Ex, quelli che sono i nostri principi, i principi a 5 stelle di come vorremmo la sanità. Quindi innanzitutto una sanità più vicina al cittadino, che metta la persona sempre al centro, che dia dignità alla persona. Una sanità che è stata manchevole finora di servizi sul territorio. Una sanità che finora ha diviso la parte prettamente sanitaria da quella socioassistenziale. Nel nostro progetto di legge noi cerchiamo di unirle, cioè per fare in modo che vengano fatti dei percorsi, appunto mettendo al centro quelle che sono le esigenze della persona di essere seguita da un punto di vista sanitario ma anche socioassistenziale. Quindi vorremmo un assessorato al welfare. Vogliamo insistere moltissimo sulla prevenzione, perché la prevenzione, il fatto di tenere una persona sana prima che diventi un malato è fondamentale, perché è questo che noi dovremmo andare a fare. Cercare con degli stili di vita condivisi e insegnati alla cittadinanza a mantenere la cittadinanza sana, in modo poi da non dover ricorrere alla sanità. Vorremmo anche una sanità che stabilizzasse e valorizzasse i profili dei lavoratori sanitari, che desse un peso anche a delle medicine complementari, che sono fondamentali e che molti di noi usano con successo e che non sono riconosciuti attualmente dalla nostra sanità, che riconosce solo la medicina allopatica. Vogliamo una sanità che venga diretta e cui dirigenti siano dirigenti veramente tecnici. Quindi vogliamo che siano nominati non politicamente, perché non è questo che ci interessa, ma che siano nominati a secondo del curriculum in modo meritocratico. Vogliamo una sanità trasparente, quindi con tutti i dati pubblicati e a disposizione dei cittadini. Ci sono degli uffici che lo fanno, ma attualmente non pubblicano i dati. E questa per noi invece è una cosa importantissima. vogliamo una sanità in cui gli enti locali partecipino maggiormente alle decisioni, perché è il territorio, sono le richieste dal basso quelle che devono essere portate alla sanità. I cittadini sanno come vivono la sanità, se la sanità è efficace ed efficiente oppure no. Quindi sono loro che devono intervenire. Questo è solo uno degli strumenti che utilizzeremo pubblicando su Lex il nostro progetto di legge, ma a questo affiancheremo una raccolta di opinioni, di suggerimenti da parte di tutte le persone. Quindi si troveranno ai banchetti dei volantini su cui tutte le persone potranno dare i loro suggerimenti e gireremo tutte le province con un salitour in cui ancora andremo a raccogliere i contributi di tutti i cittadini per cercare, come da Movimento 5 Stelle, di coinvolgere il più possibile tutta la popolazione. Grazie.